Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo video brevissimo, molto breve, perché sarà il trailer del canale come c'è scritto qui sotto Ma che cosa farà in questo brevissimo video? Innanzitutto mi presento, io sono Matteo e ho 16 anni E in questo piccolo canale, perché si è piccolo, vorrò parlare un po' della mia vita, di me, delle mie passioni E così, diciamo che questo qui sarà il mio piccolo spazio, dove all'interno del quale parlerà di me E quant'altro, beh quindi, che dire, ciao e al prossimo video